De... Lui è regista. Perché? Ah, non lo so io! Daniel! Mi senti? Is nanti? Dai! Apriamo le pack, Daniel! Facci mangiare l'olera snomestà che... ...vo c'è che... Riprendila dal lato migliore? Contaci! Ma... Cos'è? Il suo lato migliore? Daniel! Hai bisogno di Daniel! Ottima idea! Nuova Renocchio! Enjoy the moment!